Carissimi allenatori, sono Alberto Cisolla e vi aspetto il 21 di settembre al centro Provesi di Milano per il workshop di pallavolo assieme a Fefede Giorgia e Davide Mazzanti per parlare ovviamente di pallavolo, tecnica tattica e nello specifico per me di parlare del ruolo dello schiacciatore ricettore. A presto, ciao ciao!